L'avevo già annunciato a inizio live questo momento, un momento nostalgia, andiamoci a vedere uno dei video secondo me che farà piangere tutti i ragazzi in 92.000 e il titolo è Nessuno si ricorderà di questi cartoni il buon Jumbo ci riporterà indietro nel tempo quando la vita era più felice, quando le aziende di merendine per farti mangiare le loro merendine ti proponevano di tutto e di più compreso oltre ai classici gadget pupazzetti e chi altro questi cartoni animati anno 2001, le torri gemelle sono cadute ma hai sei anni e i cartoni animati sono l'unica cosa che ti interessa a parte il capezzolone che spruzza latte di mamma un pomeriggio sua madre torna con le buste della spesa e da queste tira fuori un pacco di... io mi ricordo che il mio primo fu quello che uscì nel 2003 non ricordo ancora, lo scoprì che... presero a caso ecco le brioscine e trovarono una videocassetta all'interno e chi non se lo ricorda vabbè, ovvio che ce lo ricordiamo io ho proprio... non ne ho visti proprio tutti ma li ho collezionati dal... mi pare dal 2003 in poi li ho collezionati fino all'ultimo tranne che capitava qualche volta una volta forse mi è capitato che invece di avere entrambi gioco e dvd avevo soltanto il gioco o alcune volte soltanto il dvd mi era capitato due merendine Kinder e Ferrero il pacco non è normale è grosso veramente grosso grosso più grosso lo apri e all'interno trovi questa quello che ho in mano per i più vecchi sarà un ricordo nostalgico per i più giovani invece è una storia... questo l'ho ripreso su youtube l'ho rivisto perché qualcuno ha ricaricato su youtube trovate tutto e parlarvi di un pezzettino della mia infanzia i film d'animazione della Kinder madonna ho cercato a lungo in largo online e non ho veramente trovato il motivo per cui la Kinder e Ferrero avesse deciso di investire così tanto nella produzione appunto ma forse perché invogliava la voglia di acquistare invogliare ovviamente il bambino a rompere i coglioni ai propri genitori però questo come andremo a vedere è tanto di più di quello che un bambino cerca oltre ai film per l'appunto c'erano anche questi giocattolini i bubazzetti i bubazzetti ferma 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 so che la ragazzina con i capelli colorati nata dopo il 2005 sta per mettere dislike a questo video però una volta ma anche no noi utilizzavamo davvero tanto la plastica e anche i love you plastica i love you plastica dei personaggi che trovavi dentro al cartone la Kinder e Ferrero decide di investire in questo progetto che appunto eh l'animazione non era una malvagia rispetto alla Dingo Pictures che parte in questa torre una torre dove vive un mago mago cabalone assieme al suo assistente coccante un gallo che non vola ok è un gallo non vola e grazie al cazzo che un gallo non è un'aquila non può volare ma il mago cabalone ci tiene a ricordare a noi telespettatori e anche al suo assistente che la sua utilità è quella di cantare la mattina oppure saziare i KFC people io voglio un vero assistente non un faglullone ma povero non mi ricorda qualcosa un mago che vive in una torre assieme al suo assistente pennuto il mago è cattivissimo con il pollo vabbè cattivissimo vuole fare artificialmente un nuovo assistente prepara questo pentolone dalla quale poi si sarebbe formato il suo assistente e si addormenta coccante un po' geloso un po' per scherzo decide di farlo starnutire cabalone starnutendo rovescia tutto il contenuto fuori dalla finestra il contenuto di questo pentolone cade 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 nella natura e sorprendentemente andrà a formare effettivamente questi esseri chiamati i magotti la loro utilità nessuna sono sono idioti però nel pentolone sono le persone più inutili della storia e quindi il mago decide di versarla in cantina il liquido che è caduto fuori dalla torre quindi alla luce del sole ha creato con i buoni in mezzo alla natura fa nascere questi esserini carini, cucciolosi, colorati, così belli, divertenti però attenzione perché il liquido caduto in cantina diventa questo personaggio misterioso che indovina un po' è il cattivo e guarda caso e come si chiama secondo voi il cattivo come si chiama il cattivo secondo voi? cattivo no 10 su 10 il film preferito per razzismo non si ritrovano subito tutti assieme c'è un gruppo che è un po' sparso, perso e un altro gruppo invece che si è già organizzato è la madonna già creato villaggi capitata da babamas che quando vede arrivare me li ricordo me li ricordo cioè non che me li ricordo mi ricordo di più i pupazzetti perché sono quelli che ho avuto del film ricordo poco perché l'ho rivisto cioè l'ho rivisto l'ho visto anni dopo ecco perché in quegli anni forse non lo sapevo ero troppo piccolo per rompere i maroni cioè il primo che ho avuto io della serie Kinder è stato quello che uscì nel 2003 ricordo che se non ero dovrebbero essere i magicanti sono maderrato noi abitiamo su questa sponda siamo diversi da loro e loro sono diversi da noi e se poi quelli venissero a fare i nostri mirtilli e occupare le nostre case chi è di qua? si i giocattolini me li ricordo che erano magnetici sotto per farli girare dopo un po' che vivono in questa società i magotti capiscono che in realtà sono tutti buoni e che si vogliono bene e quindi decidono di costruire un ponte questo ponte però viene distrutto da nero non lo sopporto tutti quei colori è perfetto anche a me dà un fastidio nero io sono con te sono un po' nero anch'io mi dissocio i magotti incazzati vengono a sapere che vengono a sapere che è stato il nero a distruggere il ponte e soprattutto che sta in quel momento tenendo in ostaggio il mago i magotti salgono su questa torre incazzatissimi cominciano a girare intorno nero che diventa gigantesco loro che continuano a girare i colori ovunque ero più emozionato di quando ho visto il prossimo costone alla laguna sega e poi quelli con la macchina dovrebbero essere non so se ti confondi con quelli con la moto quelli con la macchina dovrebbero essere gli smile and go se non m'ho errato che dovrebbe essere il penultimo della serie i magotti hanno sconfitto nero e quindi che succede secondo voi cioè se hanno sconfitto nero cosa succede come può finire questo film d'animazione che magicamente vabbè tutti felici e contenti nero diventa buono nero diventa bianco ma questo è il razzismo puro questo è il mio film preferito raccontato così quel finale il 2001 ormai è finito tu hai mangiato merendine su merendine solamente per finire la collezione dei magotti sei un bambino soddisfatto quando passeggiando in mezzo ai corridoi dell'ipercop noti che la kinder e ferrero ha droppato un'altra perla esattamente un anno dopo esce il unes questo è bellissimo l'intro è bellissima l'intro non vi parlo di esce su netflix esce al supermercato in videocassetta uno skinwalker è come se non l'avessi vissuta io quella realtà non può essere purtroppo non ho qui la videocassetta però c'è qualcosa di interessante anche in questo film il film è ambientato in egitto e ci sono questi due protagonisti asci e tupa due nomadi del deserto due beduini uno secco carino intelligente e l'altro semplicemente grasso vabbè anche questo ricorda qualcosa mi ricorda un certo film disney ma soprattutto mi ricorda natale sul nilo un po' bui di destino comunque mentre stanno camminando nel deserto il cammello di tupa decide di scappare perchè non riesce più a sopportare il ciccione bro la kinder e ferrero era sul pezzo cazzo era sul pezzo la kinder i cammelli scappano e rimangono loro due in mezzo al deserto quando a un certo punto arriva una tempesta loro si coprono e da questa tempesta vedono in lontananza questa questa torta gigante no tupa è una piramide non si mangia tupa e qui appunto scopriamo che all'interno di questa piramide ci sono effettivamente degli abitanti i lunes i due fanno amicizia con i lunes e vengono scortati dentro questa piramide molto bella questa citazione al giambattista un architetto del settecento minchia mi sembrava familiare sta cosa e dicono loro che deve essere sempre illuminata costantemente dalla luce della luna se no oh mio dio moriamo tutti quindi letteralmente noi siamo vivi solamente perchè in egitto i lunes stanno non lo sapevo il sole non lo vedete mai ovviamente non può andare tutto bene perchè come ci sono i lunes che mi chiamano questa sfera non mi chiamano in 104 di loro giochiamo a brovalla e andiamo ma 104 di chi? di loro chi? i lunes ti devono chiamare sono anche gli aratrass ora aratrass i fucking aratrass vediamo quindi catapultati nel covo degli aratrass ovvero quarto giaro perchè siamo perchè? risentiamo please ah le persone le persone di amici cioè ti chiamano da da maria de filippi ti chiamano catapultati nel covo degli aratrass ovvero quarto giaro perchè siamo sul fondo perchè? che lo so il famoso quarto giaro perchè? 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 ci va? i due coraggiosi eroi decidono di andare nel loro covo per scoprire i loro piani sgamati ovviamente ma no come un gruppo di gamer del ciccione ve la faccio molto bene ma da quando ero teo erano il gruppo di gamer che streamavano su Twitch ma tutto bene eh signor bot tutto bene perché tutta la parte finale è noiosa la classica sfida bene contro male e ovviamente il bene vince oh mo' arriva il meglio ma allacciatevi le cinture perchè arriva il 2003 e il 2003 non solo ha droppato le ragazze più fighe che io abbia mai visto ma il 2003 ha droppato questa cazzo di bomba i fucking magicanti e i tre elementi subito facciamo la conoscenza di Benny e Gemma sono due fratelli che vivono in questo paesino di fianco a a questo bosco cupo e misterioso dalla quale tutti i grandi dicono di star lontani perchè succedono cose strane all'interno del bosco ma no Luigi cosa chiedi dei cappelli che volano vanno verso Bosco Vecchio i vecchi raccontano strane storie su Bosco Vecchio è per questo che nessuno ci va mai però Benny le cose strane viste da vicino sono un po' meno strane come questo cadavere di una vespa morta vero? è meno strana ma perchè è per questo che non scopo in questa foresta forse anche per quello ci sono due fazioni di maghi i maghi facenti parte della scuola di magia bianca la loro maestra maga felizza e poi ci sono gli allevi questa la sigla finale mi fa sempre piangere la canzone finale mette sempre i brividi il maestro della magia nera è Badabè questi magicanti sia che siano della magia bianca o della magia nera controllano tre elementi il fuoco l'acqua e il legno ovviamente un elemento batte l'altro sasso carta forbici però versione mago nella scuola di magia bianca c'è un personaggio particolare rubio questo maghetto con gli occhiali e con la voce un po' familiare un'altra volta però la lezione di felizza sta per cominciare la trama in realtà è molto semplice gli allievi della magia bianca decidono così non avevo mai associato Harry Potter anche gli allievi della magia nera in questo modo Badabè purtroppo rimane da solo e quindi perde potere effettivamente la kinder aveva creato una cosa gigantissima magia nera ma è pokemon mi mi in una gabbia fatta con i suoi capelli beh dopo aver perso almeno due punti nel forum dei brutti Badabè si appresta ad aspettare i maghetti bianchi che intanto arrivano incazzati per salvare Maga Felizza che riesce a riacquistare potere e poi letteralmente lo scontro 1v1 più bello della storia dopo manco fosse LOL e Gary battaglia finale all'ultimo elemento ovviamente la battaglia è alla pari e quindi voi direte ma allora chi è che vince in questo marasma di elementi eh no c'è un elemento in più ah è vero dimenticavo che vinceva così con una fionda con una fionda con una fionda ha passato 60 anni della sua vita ad allenarsi nella magia nera e se gli spari muore spari che poi ha sparato ai medaglioni ah questo pure è top ah è il 2004 e iniziano i tram ma io stranamente questo non ce l'ho nella mia collezione ma noto che c'è un piccolo calo chi è che non ha un calo ragazzi ce l'hanno tutti piccolo calo dovuto al film dei roteoli ok qui non c'è magia non c'è una pozione qui c'è un vecchio signore un po' pazzo che ci racconta che tutto nel mondo deriva dalla rotazione la ruota che fa girare il mondo questo vecchio signore ha degli allievi ha degli allievi maschi e femmine che hanno deciso di partire per un lungo viaggio in giro per il mondo con l'unico scopo di ballare e girare e portare in questo modo felicità una premessa un po' scarna ma di interessante questo film aveva l'antagonista Antagos i nomi più azzeccati non poteva averceli il cattivo il tuo amico delle superiori beh sì io perché mi sono infortunato al menisco se no a quest'ora sarei già a giocare in serie C certo questo Antagos serie C, serie A dato che non sono felici serie champions e come fanno? mettendo uno specchio attorno ai roteoli che è successo? non lo so ma non è niente di buono uno specchio uno specchio che toglie loro la possibilità di ballare qui si arriva alla battaglia finale che ovviamente voi direte vinceranno ballando girando con il potere della ruota ma una fionda sempre sta fionda sempre la fionda questa anche è bellissima ufff ufff ok 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 io qua non lo so ragazzi perché abbiamo letteralmente l'opera finale a me dispiace non è finale non è finale amico mio ammetto essere più bravo in queste cose io non so se riuscirò a rendere giustizia a questa perla che è gli animotosi allora già la prima scena ti fa sentire a casa questa è la classica casetta di campagna della nonna in questa casa vivono due fratelli Fofì e Dedo scopriamo che è il compleanno di Dedo e che Fofì deve far lui un regalo che in quanto sorella de merda si era scordata straccidentaccio il compleanno di Dedo e quindi esce al volo per cercare qualcosa da acquistare fratellino è appassionato di motori un piccolo sinagagiri in questo veicolo trova un negozio per niente inquietante in cui possiamo notare in una scena che il regista ha deciso di inserire un piccolo easter egg sta diventando letteralmente la lore della pixar piano piano il proprietario del negozio vi consiglia questo giocattolo questa specie di gioco dell'oca a tema amo la lore non l'ho capito eh questa se non hai vista la devi recuperare e se giri fai funzionare il meccanismo ma attenzione mai girarle oltre questa linea rossa mai altrimenti che succede? cosa succede di così brutto? beh non lo so non lo sa manco lui ma succede qualcosa di malvagio di brutto per sicurezza insomma non giriamo la chiave un po' come quando sei per strada e cambi lato del marciapiede perché vedi una volta tornati a casa Fofi dice al fratello non devi mai girare le chiavette oltre quella linea rossa e invece vengono catapultati in questo mondo parallelo in cui delle moto che poi non è parallelo è il mondo del del giocattolo lì che aveva al collo una delle due chiavi la chiave d'argento ma rimane dedo tutto rincoglionito che viene raggiunto dai mitici dai fantastici animotosi non ti sei accorto che è un bambino umano? è vero rumbo una moto sgargiante una moto rossa velocissima al suo fianco scuti una moto azzurra abbiamo uno scooter e poi cioppi l'amico scemo simpatico un po' anche questo film mi ricorda qualcosa gli animotosi portano il protagonista è vero ricordavo un po' troppo Cass è vero è vero ovvero un mondo parallelo dove la società fondamentalmente è controllata da queste moto e queste chiavi che loro hanno portato con sé vabbè altro che gattoni adesso questo ti posso dare ragione Luigi quindi sono fonte di potere cioè questo gruppo ai tempi erano perle che è un po' il bullo del quartiere che si diverte fondamentalmente a far scherzi a tutti e a insultare gli altri sei ancora la stessa biciclettina di allora cosa hai detto poi biciclettina cioè è una moto poi in un momento tranquillissimo dell'episodio a un certo punto dedo si incazza perché è tutta colpa sua io speravo sempre che ci fosse tipo un continuo di sti cartoni la lancia e questa chiave si va a infilare esattamente nel blocchetto d'accensione di rumbo questa è esattamente la spiegazione che ti dà una tipa quando ti tradisce con un altro eh ma sai il cazzo eh si è così magicamente queste chiavi hanno un potere immenso che possono appunto unir le forze e andar velocissimi e grazie a queste chiavi rumbo si convince che può finalmente sfidare Sfango il suo acerrimo nemico a 1v1 su Rust nel frattempo anche i cattivi avevano capito che questa chiave dava un burrone questo è bello Sfango prende la rincorsa va per saltare il burrone Sfango cade e muore e probabilmente Sfango non è che muore ritorna vivo NordVPN non credo funzioni così ormai la conosciamo NordVPN è la naggia a te NordVPN l'ha inserito pure nel posto dove non andava inserito a questa taci sua rumbo è il protagonista ragazzi quindi lui ce la fa un beh deve vincere per forza prende così l'altra chiave dedo si ricongiunge con la sorellina ok affrontiamo l'elefante nella stanza ok probabilmente voi starete dicendo vabbè brother però abbiamo capito che questi film della Kinder sono dei copioni fondamentalmente fatti male dei film della Disney o della Pixar più o meno dai questo è palesemente Cars io vi avevo avvertito questo video sarebbe stato pieno di sorprese ma soprattutto però mancano ancora gli altri mancano tutti la serie dvd la serie dvd poi c'hanno una lore soprattutto gli ultimi che poi si vede palesemente che un personaggio viene riutilizzato tra l'uno e l'altro eh eeeh si allora ce l'ho ce l'ho pure io come sponsor anche se io l'ho preso tramite un altro sito non direttamente da loro ecco però diciamo che non è che non lo voglio far sentire però c'è è una dv con link suo tesci c'è qualcuno lo va a comprare con link suo e mi togli i soldi a me perchè io devo fare qualcosa dove mi leva i soldi a me porca miseria a suo punto lo devo pubblicizzare io cos'è NordVPN ma penso che basta andare sul sito e sapete leggere tutti non siamo analfabeti c'è gli animotosi è una sorpresa il primo film di Cars esce nelle sale il 2006 il film degli animotosi ragazzi esce nel 2005 un anno prima qui ci sono diverse spiegazioni la prima è uscito un trailer di Cars nel 2005 la Kinder e Ferrero non ci ha messo due secondi per anticiparli con un film di animazione fatto anche abbastanza bene opzione numero 2 uno degli animatori di Cars è impazzito ed è andato a lavorare per la Kinder e Ferrero mi sembra un po' esagerato sta cosa vabbè dai anche se su questo posso dire tante cose posso dire la prima cosa che posso dire l'animazione che faceva cagare primo no non credo forse il primo vabbè uno dei tanti primi cartoni in 3d fatti male ecco portandosi dietro la ricetta del Krabby Patty e fornendola agli animatori della Kinder e Ferrero opzione numero 3 la Disney Pixar ha copiato un cartone italiano fatto dalla Kinder e Ferrero e se fosse vero stiamo a convincerci del fatto che sia così non cercate su internet risposte non interroghiamoci sul ma si tanto sono cartoni chi se ne frega che ha copiato chi siamo giunti ormai alla fine di questo video siamo giunti alla fine di questa avventura e voi direte ma come siamo solamente al 2005 mancano ancora 4 anni perché dici che siamo arrivati tra cui l'ultimo non era proprio un cartone l'oro ma era soltanto come posso dire le solite collaborazioni che fa la Kinder con altri brand altri cartoni altre cose perché uscì il primo episodio di una serie che poi venne trasmessa su Mediaset e lo ricordo perché poi l'ho smisi di guardare alla fine fallire ci sta nella vita come hanno fatto per esempio nel 2000 sempre nel 2005 mi pare con un altro cartone che divenne importante sulla Rai che era Monster Allergy fecero il primo episodio in vendita io voglio credere che no quello è prima di questi film quello del 2009 è un altro dopo la vittoria del mondiale dell'Italia credo che se io prendo un qualsiasi che sembra di mostri si parlava diciamo fammi un cortometraggio di 30 minuti lo farebbe molto meglio degli scatenini e le dune dorate questa è una merda e vi mostro perché non voglio parlare degli scatenini primo fotogramma secondo fotogramma terzo fotogramma qualità di merda ho la fortuna che nel 2007 avevo già 12 anni e che quindi avevo iniziato a guardare due fantagenitori Ultimate Muscle Geopop cioè insomma ma come Geopop Geopop ma come Geopop nel 2007 ma puoi vedere Geopop nel 2007 si no non era una specie di virus erano tipo dei pirati ecco c'era una guerra tra i mostri e tra i pirati che faceva anche il gioco fecero di sta cosa e l'ultima immagine che ho dei film Kinder e Ferrero sia questa il triste finale si assaporava da lontano e con un filo di sorriso dici addio a quello che è stato un periodo della tua vita addio? ma anche un bel po' per arrivare al vero addio infatti arriva al 2009 e col 2009 c'è l'ultimissimo film mostri e pirati l'avventura non c'è più quella ricerca del creato che poi non era un film ripetiamo il primo episodio che possa effettivamente dargli una voglia incredibile di collezionare le sorprese della Kinder per poter tenere nell'astuccio nel banco un piccolo ricordo da poter guardare e ricordare un momento felice forse quell'altro ti riferisce a quello del 2005 però posso dire uno dei video più belli che io avessi mai visto sinceramente c'è questa volta Jumbo Drillo si è rivoluzionato posso dire e non lo so se fece anche io una cosa del genere ma una mezz'idea mi sarebbe venuto guarda una mezz'idea peccato che mi ha anticipato prima del previsto ma fa niente fa niente l'importante è che abbiamo delle prove dei riassunti anzi c'è un altro che ha fatto i riassuntoni di questa roba di questi cartoni dovrebbe essere Simone Pigreco se non erro un minuto si chiamava Simone Simo Pigreco una cosa del genere faceva i riassuntoni di questa di questi cartoni li ho visti tutti non ne ha fatti proprio su tutti ma la maggior parte li ho visti poi ha cambiato ha fatto musica e ciao